Abbiamo realizzato l'intervento di difesa della sponda destra del Brenta in prosecuzione di un intervento iniziato dalla provincia per permettere alla pista ciclabile di essere in sicurezza. Il setto che era rimasto fra il bacino finesso e il Brenta era di soli 50 cm, provate a pensare cosa sarebbe successo se non fosse stato fatto questo intervento. Fino a pochi mesi fa infatti il fiume passava da appena 50 cm dalla pista ciclopedonale, oggi invece l'acqua scorre ben più ad est e l'argine è stato consolidato. Il tratto interessato dall'intervento è lungo circa 50 metri, un'opera costata 185 mila euro e finanziata con fondi regionali. Abbiamo spostato il materiale nell'alve in modo tale da ripristinare il flusso del corso d'acqua all'interno del fiume stesso, però in una zona più centrale. In una regione caratterizzata da un alto rischio idrogeologico, opere di questo tipo diventano indispensabili ma spesso difficili da realizzare per la mancanza di fondi. Non è giusto spendere in vano i soldi ma è giusto che attraverso iniziative e recupero di materiali si possa poi riuscire a dare delle risposte ai territori che ne hanno veramente bisogno. Un patrimonio importante, una sicurezza idraulica che doveva dare serenità alla cittadinanza, una ciclabile via turistica importante lungo un patrimonio importante che è il Brenta. Il fiume dunque come grande risorsa del territorio certamente da proteggere e valorizzare.